ScienzeMotorie.com è la piattaforma, il punto di riferimento per il movimento culturale e rivoluzionario in atto nelle scienze motorie. Rivoluzionario perché in controtendenza con l'andamento di un intero settore, parlando di crescita personale e professionale e dissociandosi da consuetudini inappropriati e inefficaci. Lo facciamo parlando con professionisti che hanno esperienza e hanno risultati alle spalle e che possono allora presentare un sapere inedito. Per farlo utilizziamo dei canali di interazione, di comunicazione che hanno delle indicazioni per l'uso, sempre di più, come ad esempio i social media. I social media sono strumenti che possono essere molto utili, a noi lo sono per comunicare con milioni di persone, ma allo stesso tempo possono essere molto pericolosi perché non ci permettono facilmente di identificare fonti attendibili e mettono sullo stesso piano professionisti che hanno una trentennale esperienza in ambito di ricerca e danno appunto risultati alle spalle con improvvisati scappati di casa che magari non hanno mai raggiunto obiettivi reali, che però hanno diritto di commentare. Questo è un elemento fondamentale per utilizzare consapevolmente questi strumenti, per interagire positivamente, cogliere il massimo profitto da questi strumenti, vivere e partecipare al cambiamento. Un altro elemento fondamentale è la soglia di attenzione. La soglia di attenzione è continuamente in cambiamento. Siamo arrivati a una soglia di attenzione molto ridotta ed è per questo che il talk di scienzemotore.com ha una dirata così lunga, totalmente in controtendenza, perché vuole selezionare dei professionisti. Laddove le persone solitamente riescono a seguire un massimo di due minuti di video o leggere un post molto breve, con una piattaforma come Twitter, magari di 140 caratteri, il talk di scienzemotore richiede dedizione, richiede attenzione. Perché? Perché certi concetti, certe raffinatezze intellettuali, certi saperi richiedono attenzione. E se si vuole veramente cogliere l'opportunità di apprendere, è necessario dedicarsi. Questo avviene in ogni ambito importante della vita, come lo è quello di un percorso di crescita personale e professionale. Un altro argomento necessariamente a approfondire è dunque quello della democrazia. Una democrazia apparente, apparentemente positiva, che sui social mette sullo stesso piano professionisti che hanno una trentennale esperienza, magari in ambito di ricerca scientifica, e improvvisati. E che rende ancora più difficile e crea ancora più confusione, rende più difficile identificare una fonte attendibile. Perché tutti hanno il diritto di commentare. E allora questa apertura al confronto si trasforma in qualcosa di negativo. Perché mettendomi io dalla parte di colui che impara, voglio imparare, voglio apprendere, da chi può insegnare. Non da persone che fanno disinformazione. Come in qualsiasi azienda, team, organizzazione, dove c'è una netta gerarchia, e non è un ambiente democratico, non è un ambiente aperto al confronto sempre. Anzi, questo potrebbe essere, sarebbe estremamente negativo. Se non ci fosse un allenatore che prende una decisione, se non ci fosse un professore che insegna a degli studenti, questo processo di apprendimento verrebbe sicuramente meno. Ciò non significa evitare l'interazione, ma saper identificare quali sono le fonti attendibili. Ed è in questo che ScienzeMotori.com vuole fare chiarezza. Ed è per questo che il nostro obiettivo è quello di incontrare professionisti che abbiano le nostre stesse ambizioni di crescita e miglioramento, e desiderio di fare network. Il prossimo grande appuntamento sarà quello del Summit Scienze Motorie, nella sua terza edizione dal titolo Anticonformisti, che presenterà i migliori professionisti di livello internazionale, professionisti che hanno sempre pensato fuori dagli schemi e ottenuto grandi risultati e sono fonti attendibili per il massimo livello di aggiornamento. Un momento in cui spero di incontrarti personalmente.